Arisa e Vito Coppola, buone notizie per chi segue con simpatia la cantante e il ballerino. I due infatti sembrano vivere un momento d'oro. Se inizialmente la storia ha faticato a decollare tra alti e bassi, ora possiamo vedere che i due sono davvero inseparabili. Eccoli infatti in varie occasioni insieme, come alla finale di Coppa Italia dove Arisa ha cantato l'inno di Mameli prima di inizio partita, oppure i momenti quotidiani. Vito riprende Arisa mentre si trucca in bagno e ancora sorridenti in un picnic al parco, oppure in giro per la città scattando selfie e condividendo con i followers la conclamata relazione. Si vocifera che i due stiano cercando una casa dove andare a vivere insieme, a metà strada perché Arisa vive a Milano e Vito a Roma. Certo è che tra i tanti impegni da rispettare per entrambi non sempre è facile stare insieme quanto si vorrebbe, ma se c'è l'amore c'è tutto. A presto A presto A presto A presto A presto A presto